La prossima nostra ospite la presento con la definizione che lei stessa ci ha dato. Si definisce eritrea per nascita, missionaria comboniana per vocazione e cittadina del mondo per scelta. E rappresenta qui le donne del mondo che hanno incrociato il suo cammino con le loro esperienze, le loro diversità, le loro sofferenze e le loro ricchezze. Elisa Kidanè, che è stata già qui l'anno scorso a marzo a presentare il libro di Pierluigi, L'umanità di Dio, i commenti e i Vangeli della Domenica, dopo aver studiato ad Asmara, nel collegio femminile delle suore missionarie comboniane, è diventata lei stessa missionaria comboniana. E poi è partita per l'America Latina, dove è rimasta dall'86 fino, credo, al 93, lavorando in Ecuador, Perù, Costa Rica. In seguito è venuta in Italia, a Verona, dove è stata redattrice della rivista Raggio, delle suore missionarie comboniane, e ora vive a Roma, dove dirige la rivista con Bonifem e anche cura su Nigrizia la rubrica I colori di Eva. È anche una bravissima poetessa, vi consiglio di leggere le sue poesie Orme nel cuore del mondo, è uno soltanto dei volumi, e forse troverete anche fuori, assieme agli altri libri della Gabriella Caramore e al libro che è stato scritto, L'Italia qua giù, non da te. E quindi, Elisa, a te la parola. Per me è un onore intanto ritornare a questo centro, Centro Balducci, perché so che è un centro dove il cuore veramente palpita. Ed è un onore anche sedermi accanto a Gabriella, che per anni ho ascoltato, sentire questa sua voce così serena, così calma, raccontare e toccare problematiche molto profonde. Quindi, finalmente, riuscire a starci accanto mi sembra una bella occasione, come naturalmente sono felicissima di incontrare Maria Carmela Lanzetta, di cui abbiamo parlato anche sulla nostra rivista, che sono a Verona, vivo a Verona, sì, fa niente. Sono stata a Roma un po' di tempo, adesso sono a Verona, e qui abbiamo parlato, abbiamo parlato anche di un'altra grande sindaca, quella di Lampedusa, la Giusi, che un anno fa, con la sua lettera angosciata, e noi abbiamo pubblicato quella lettera, ma non abbiamo visto muoversi nulla, no? Poi, finalmente, ci doveva andare il Papa Francesco a farci ricordare che c'è anche quest'isola dell'accoglienza. Ma è bello, insomma, poi dopo sentiremo naturalmente anche parlare di una donna che non c'è, ma che si sente la sua mancanza. E penso che anche in Somalia sentono la mancanza di questa donna. Il tema che mi era stato dato, all'inizio, parlando con Pierluigi, dice, beh, racconta un po' sulle... E io ho detto, no, basta con le donne d'Africa, perché sono vent'anni che parlo di donne d'Africa, no? E non vedo tanta accoglienza ugualmente. Ma l'ho detto quasi in tono, così come per dire, ormai sono diventata la tutologa delle donne d'Africa. E allora lui ha detto, beh, ci penso io a darti un titolo. E quando ho visto donne di tutto il pianeta, ho detto, beh, insomma, qui abbiamo esagerato un po' tanto. Ma ho raccolto la sfida. Naturalmente, in poco tempo non ho la pretesa, naturalmente, di parlare delle donne del pianeta. Però, ecco, siccome anche la nostra rivista con Bonifemme è una rivista che veramente cerca sempre e ha preso proprio una linea editoriale di mettere in risalto tutto quello che le donne fanno. Perché per troppi anni, per troppi secoli abbiamo letto libri di storia e dove sono rintanate o sono principesse e regine o sono rinchiuse in qualche focolare. Tutto là. Ma noi abbiamo fatto la storia. Allora ci siamo dette, ecco, come missionarie, come donne, come soprattutto missionari che vediamo veramente quello che le donne in tutto il mondo riescono a fare, ci siamo dette, hm, facciamo una rivista e raccontiamo, raccontiamo quello che fanno le donne. Questo, però, a prescindere, naturalmente, da quello che fanno gli uomini. Nel senso, non vogliamo dire adesso ci siamo noi. Non è una controposizione. Questo lo voglio dire soprattutto agli uomini che oggi sono qui presenti, a un Pierluigi che è un uomo e ama le donne ed è bellissimo vedere questo, no? E lo dico anche per... sono venuta da Verona insieme a quattro coppie ed è bellissimo, eh? Quattro coppie che decidono di venire a ascoltare qualche cosa sulla donna. Ed è bellissimo fare questo cammino di insieme. Io penso che se vogliamo risolvere qualche cosa, noi abbiamo avuto bisogno, noi come donne abbiamo avuto bisogno in questi anni di sederci attorno a un tavolo, di chiederci ma qual è il nostro ruolo, ma dove vogliamo andare, ma che cosa possiamo fare, ma che cosa siamo capaci di fare. Adesso, amiche e amici, è ora di incominciare a fare un cammino di insieme. E solo nella capacità di guardarci negli occhi, uomini e donne, chiederci come possiamo salvare questa nostra umanità, che troveremo la strada. Noi possiamo tenere ancora i nostri circoli, perché sappiamo che lì abbiamo bisogno di chiacchierare, di dirci le cose, però ecco, anche gli uomini maschili, perché una volta si diceva quando parlo degli uomini intendo abbracciare le donne, beh, adesso parliamo di donne e di uomini, sottolineiamo veramente chi siamo, però abbiamo bisogno di camminare insieme, se vogliamo, perché questa situazione di cui tristemente qui a Zuliano è successo, è la punta dell'iceberg di un malessere, che esiste negli uomini maschili e che noi donne dobbiamo veramente riuscire a cercare di sederci, di chiedere dove stiamo andando noi come umanità. Quindi ecco, mi scuseranno gli uomini, ma il tema è proprio parlare del ruolo, di chi sono queste donne, le donne del pianeta. Certo, in poco tempo non ho neanche la pretesa di voler parlare delle donne del pianeta, però ho cercato di prendere in considerazione tre grandi aspetti, che non sono esaustivi naturalmente. Innanzitutto, qual è quel filo rosso che unisce tutte le donne del pianeta? Innanzitutto è quella capacità della donna, delle donne, di non fare barriere, noi non conosciamo la parola frontiera, ce l'hanno messa su, ce l'hanno inventata sugli uomini la frontiera. La donna, provate ad andare in qualsiasi mercato, parlo naturalmente dei grandi mercati d'Africa, non esiste più la tribù nel mercato, non esiste più l'etnia nel mercato, perché c'è quella voglia di condividere, di parlare, di scambiarsi. Cioè, la donna come donna, in sé, non conosce la parola frontiera, la abbatte piuttosto la frontiera. Allora, qual è quel filo rosso che unisce tutte le donne? Poi, alcuni aspetti che caratterizzano i vari continenti, e il terzo punto, donne, cultura e religione. Ma brevemente, proprio, non faccio qui una lezione, no? Proprio una condivisione, come giustamente è stato detto, di quello che ho visto e toccato, di quello che ho toccato con le mani, che ho visto con i miei occhi, no? Allora, il filo rosso che unisce le donne del pianeta è il coraggio. Perché io sfido chiunque di voi andare una volta in Africa e vedere quello che le donne d'Africa fanno in situazioni inenarrabili e vedrete che direte, ma come fanno? Ma penso che questo lo possiamo dire tranquillamente per qualsiasi altra parte del mondo. Come fanno queste donne a portare avanti comunque una situazione, anche nelle situazioni più faticose? Io penso che dopo secoli, e non stiamo qui a fare le vittime, ma a dire semplicemente le cose come stanno, dopo secoli di soprusi di ogni genere e di genere, noi donne ovunque abbiamo sempre trovato il coraggio di non desistere dalla nostra grande missione, che è quella di essere artigiane di vita. E non lo dico in senso romantico del termine, non pensate subito al sinonimo angelo del focolare, ma nel senso che abbiamo dentro di noi la certezza che dobbiamo resistere perché l'umanità possa esistere. E mi allaccio al bellissimo tema che ha iniziato questo incontro di Gabriella, questo bambino. Io ho un'esperienza proprio che posso dire bellissima. La nostra giornalista di redazione, una laica sposata, al suo terzo bambino è tornata a lavorare con noi, con il suo piccinino, di un mese e dieci giorni. E siamo sempre tutti lì, siamo lì a scrivere appena che, sospira tutti lì a guardare che cosa gli è successo, anche se c'è la madre. Comunque l'istinto materno, anche se siamo suori, l'istinto materno ce l'abbiamo dentro, per grazia ricevuta. E quindi siamo lì attenti a vedere. E allora, però io ogni tanto osservo, soprattutto quando lo allatta, questa relazione che c'è tra madre e figlio di questo bambino. Allora, questo bambino che Gabriella ci ha spiegato quanto importante è per l'umanità, ma giustamente Dio ci ha messo vicino una donna, che possa poi accompagnarlo e crescere. Un bambino da solo non potrebbe sussistere. C'è proprio la presenza del genitore 1, genitore 2, comunque dei genitori, c'è la presenza comunque, poi alla fine, di questa madre che oltre a averlo portato in seno nove mesi, continua poi a portarlo. E penso che a volte gli uomini sono lì che guardano questa simbiosi tra madre e figlio, però sanno comunque che hanno anche un loro ruolo che scopriranno giorno per giorno. Comunque parlando appunto delle donne, abbiamo dentro di noi questa capacità che ci dice che dobbiamo andare avanti, nonostante qualsiasi situazione, perché sappiamo di essere le artigiane. Mi piace questa parola, no? Dovremmo recuperare i tempi di crisi, si ritornava a essere artigiani comunque, no? E noi lo siamo da sempre, artigiani della vita. Ogni tentativo di opporci a tutto quello che ci umilia, che ci degrada, fa parte della nostra innata certezza di essere coloro senza le quali il mondo non potrebbe sussistere. Ogni volta invece che noi ci alleiamo, purtroppo c'è anche questo, per paura, per mentalità, per cultura, a coloro che invece vorrebbero vederci relegati negli anfratti oscurantisti della storia, ogni volta che facciamo questo, tradiamo noi stesse e tradiamo l'umanità. Noi siamo le artigiane della vita, ma di noi, da che mondo è mondo, come dicevo all'inizio appunto, non si facendo nei libri di storia. Ma oggi lo sappiamo, è finito il tempo delle recriminazioni. Basta. Dobbiamo smetterla di dire non hanno fatto, non ci hanno detto, adesso è ora di rimboccarci le maniche e di metterci davvero in piedi e a lavorare. E siamo già in ritardo, perché tutto quello che sta succedendo, l'esperienza anche di Maria Carmela, ci dice quanto è difficile riuscire a entrare a pieni diritti in una società. Abbiamo sentito, senza voler fare polemica, ma le offese a volte che sono state date, ad esempio, a una ministra, le offese che ultimamente è stato dato alla terza carica dello Stato, non tanto per la terza carica dello Stato, soltanto chiedendoci se fosse stato un uomo avrebbe usato quel termine? No, giusto perché è donna, anche se poi dopo scrivono fiumi di parole su questa affermazione. Ma è questa la nostra realtà ed è questo che noi vogliamo. Succede qui nella civilissima Italia, provate a immaginare che cosa può succedere in altri continenti, civilissimi naturalmente, ma con altre culture. Dobbiamo dire basta a tutto questo. Quindi è finito questo tempo di recriminare. Sarebbe troppo facile per me, ad esempio, oggi, parlare di quanto è successo proprio qui a Zuliano. Un ennesimo e ferrato omicidio. Sarebbe troppo facile mettermi a discutere sulle attenuanti che sempre noi giornalisti e giornaliste usiamo per giustificare questi omicidi. Sarebbe troppo facile, oggi, ma all'entrata padre e donna Pierluigi ci ha raccontato il dramma di queste due famiglie. Ecco, non dimentichiamoci anche quello che c'è dietro. Non fermiamoci solo al fatto. Il fatto, come dicevo all'inizio, è solamente la punta dell'iceberg di un problema che dobbiamo risolvere all'interno di uomo e donna. Questo senz'altro lo dobbiamo fare. Già si fa. Dobbiamo continuare a farlo. Non sono questi i fatti che ci devono stupire. Quello che ci deve stupire soprattutto è che la società, tutte le società, si stanno imbarbarendo. Punto. E noi, che facciamo? Noi, le artigiane della vita, che facciamo con i nostri silenzi, con i nostri feroci sospetti? Chissà cosa deve avergli fatto, sentito con le mie orecchie, dopo un ennesimo omicidio. Chissà. Oppure, beh, in qualche modo se l'hai cercato. Sono cose che si sono dette. E questo è l'imbarbarimento. Che dobbiamo stare attenti. Sarebbe troppo facile. E le parole verrebbero fuori come un fiume in piena. preferisco chiedere e chiedermi e chiederci. Ma fino a quando tutto questo può durare? Fino a quando lasceremo che questo continui ad accadere? Ecco, il filo rosso di cui vi dicevo che unisce le donne è proprio questo. Ovunque, anche in quei paesi tecnicamente avanzati, il nervo scoperto è proprio questo. L'idea insita della debolezza della donna. Ma nel contempo, però, cresce ovunque anche la consapevolezza della donna che abbiamo ormai superato il limite della sopportazione. E questo lo dico soprattutto per quei paesi, no? L'America Latina, Africa, Asia, dove veramente la situazione della donna è una situazione di grande sofferenza. Però, al contempo, appunto perché abbiamo superato il limite della sopportazione, non si contano più i movimenti, le associazioni. Purtroppo, lo dobbiamo dire, in ordine sparso. Se riuscissimo a unirci un po' di più, a volte vedo anche solo a Verona, nella stessa serata, ci sono 4-5 incontri interessanti sulla situazione della donna, diversi. E allora, naturalmente, ci sei un piccolo gruppo da una parte e ci disperdiamo. Dovremmo veramente avere più il coraggio di far abbattere quelle barriere e quei confini e unirci un po' di più. Dobbiamo cercare, quindi, di fare più rete, di essere più solidali. Io vedo in questo tempo, è vero, la nostra creatività ci porta a iniziare cose straordinarie. Nel 2000 c'è stata una grande marcia mondiale delle donne che ha coinvolto tutto il mondo. È stato qualcosa di straordinario. e le donne poi su queste cose subito si aggregano e si coinvolgono ed è stato bellissimo. Che cosa è rimasto di tutto questo? Un blog. Sono andata a guardarmelo ieri sera. Il blog è rimasto della grande marcia che doveva poi creare tante altre iniziative. Vi ricordate l'8 marzo dell'anno scorso? In tutto il mondo c'è stata queste piazze dove le donne si univano in una danza per dire no al femminicidio nel mondo. Sono rimasti i poster a ricordo di questo in cui tutte ci siamo unite per dire no. È vero, ci sono anche movimenti come quello di se non ora quando ma dopo la grande novità bellissima l'entusiasmo collettivo la straordinaria donata pacifica che ha visto centinaia di donne riunite uomini e donne perché anche in questo è bello vedere quando si tratta di tematiche femminili vedere anche che c'è il sostegno di tanti uomini e poi alla fine che cosa si finisce? Cos'è finito questo? C'è Facebook dove ogni tanto le donne dicono non mi piace su un determinato argomento ecco i mezzi di comunicazione se da una parte hanno facilitato la comunicazione mondiale dall'altra parte attenzione ci stanno impigrendo mentre il mondo continua a tenere in ostaggio il nostro diritto di fare davvero un salto di qualità dobbiamo farlo come? quando? Dobbiamo inventarcelo dicono che noi donne siamo capaci di inventiva però anche di costanza cercare poi di portare avanti cercare veramente che queste belle iniziative poi abbiano un risvolto e una sulla realtà che ne è stato del nostro 8 marzo nato per ragioni veramente forti prima ce lo hanno scippato e ora ce lo restituiscono a pagamento l'8 marzo è diventato un giorno di business no? ecco allora ritroviamo riprendiamoci questi movimenti queste situazioni e riportiamole veramente a cose concrete non lasciamoci abbindolare da da cose che poi dopo non trovano un riscontro quando una donna viene uccisa quando una donna viene insultata dove siamo noi? che cosa possiamo fare? scendiamo ancora in strada riprendiamoci un'altra volta il diritto di manifestare di dire di solidarietà diceva una donna d'Africa è vero voi donne d'Occidente avete raggiunto una certa libertà una certa indipendenza ma non dimenticatevi di chi sta cercando di arrivare a questo quindi ecco questa solidarietà e a volte io ho parlato dell'Africa ma come giustamente ci è stato ricordato c'è anche nella stessa Italia c'è bisogno di solidarietà che questa Italia sia davvero un'Italia dove quello che succede nel piccolissimo comune della Calabria deve interessare anche Udine o comunque l'Italia del nord e del centro due alcuni aspetti che caratterizzano i continenti come dicevo ad esempio io in questi giorni sto leggendo un bellissimo libro scritto da Luisa Lama su Nilde Iotti ed è bellissimo perché il sottotitolo è una storia politica al femminile ed è bellissimo io suggerisco davvero di leggerlo ma soprattutto di farlo leggere anche alle giovani come racconta quello che è stato il tempo della resistenza come le donne hanno capito che se non prendevano in mano la situazione ne andava di mezzo tutta la situazione d'Italia e hanno avuto il coraggio il coraggio a rischio e pericolo di dare la faccia di darsi di dire veramente quello che dovevano fare ed io veramente leggendolo dicevo ma è questa ma dove è andata a finire questa Italia capace di prendere in mano la situazione straordinaria storia dove la consapevolezza del ruolo femminile nella politica nella società portava queste giovani ragazze a pensare altro oggi purtroppo la globalizzazione ci ha anestetizzato il cervello ma soprattutto il cuore oggi facciamo fatica a reagire a prendere posizioni d'altronde 20 quasi 30 anni di io chiamerei fleboclisti televisiva in cui ci hanno fatto credere che bastava starsene tranquilli a casa e veniva a suonarci mister magic a sgrassare la cucina e pulire i pavimenti no insomma è vero oggi possiamo votare e spesso non lo facciamo tanto votare a destra votare a sinistra è tutto uguale e se noi ricordiamo cosa hanno fatto le suffragette cosa hanno fatto le donne per il diritto al voto alcune sono state uccise e noi oggi ci prendiamo la libertà di dire se faccio non voto cioè anche questa coscienza politica che ci deve aiutare veramente è inutile non possiamo più stare a dire guarda come sono questi politici guarda cosa fanno mettiamoci davvero imbocchiamoci le mani e facciamo qualche cosa perché in fondo siamo noi quelli che dobbiamo che dobbiamo cambiare deleghiamo ma non vuol dire che delegare i politici non vuol dire esimersi dal pretendere che poi facciano quello che non sto facendo politica ma è bello fare politica penso che non sto facendo no adesso poi abbiamo anche il permesso di Francesco che ha detto che dobbiamo fare politica quindi e allora possiamo opinare e deleghiamo certo oggi non siamo ai tempi di 60 anni fa della resistenza e compagnia ma se continuiamo a credere che era meglio quando si stava peggio guardate che il peggio è solo dietro l'angolo non lamentiamoci dando la colpa alla società alla scuola alla politica solamente diamoci da fare facciamo rete mettiamoci in piedi facciamo sentire la nostra voce ogni volta che una di noi viene offesa colpita maltrattata o uccisa e io ricordo un giorno in america latina quando in un posto non possiamo generalizzare ero in ecuador e lontano proprio in un in una comunità sperduta c'era un po' il vizio di battere le donne e allora abbiamo detto abbiamo fatto un incontro solo le donne e ci siamo dette noi suore stavamo ascoltando ma naturalmente cercavamo di sostenere quelle che avevano un'idea e ci sono dette adesso basta la prima di noi che viene battuta gridi 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 fortissimo invece cosa succede sono caduta no qui non succede questo succede solo nei paesi del sud del mondo no sono caduta mi sono no gridi forte e noi veniamo tutte in casa e gliele diamo all'altro e noi abbiamo detto molto bene e da lì davvero da lì a un po' di tempo cara mia si sono messe a posto le cose cioè no adesso ridiamo perché io faccio un po' ma cosa c'era dietro questa cosa nella misura in cui noi siamo solidali con l'altra nella misura in cui cominciamo a far capire che non sei sola le cose cambiano non lasciamo sola nessuna donna e non lasciamo solo nessun uomo perché anche l'uomo che batte ha bisogno di qualcuno davvero che lo aiuti a comprendere che quella non è la strada per costruire l'umanità non basta più star dietro a un computer e a scrivere mi piace non mi piace leggiamo di più informiamoci studiamo ripristiniamo i circoli dove però invitiamo e lasciamo esprimere anche le giovani perché io sono andata in un circolo non dico il nome di un gruppo di donne attempate dove avevano veramente fatto storia politica eccetera e c'era qualche giovane che tentava di dire la sua ma 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 le signore di una certa insomma le dicevano ma tu stai zitta no lasciamoci noi dobbiamo diventare perché ormai incomincio anch'io a essere tra la parte del lasciamo veramente che le giovani possano attingere alla nostra storia ma che facciano il loro percorso molto importante questo ecco non lasciamo che vengano incantate dagli specchietti per le allodole per un facile guadagno o per notorietà futili bene ha detto bene ha detto la presidente della camera quando ha biasimato i concorsi di Miss Italia pensate che adesso si fanno addirittura nel mondo meno femminista che come il mondo musulmano c'è la Miss musulmana della Nigeria cioè come la globalizzazione è riuscita veramente a scardinare delle 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 una cultura refrattaria tutto questo eh ma no non è noi non possiamo perdere perderci dietro alle Miss Italia che poi abbiamo visto che cosa succede per questi concorsi questo è giusto per dire quanto noi dobbiamo fare veramente un salto di qualità aiutarci a fare un salto di qualità ecco non è vero che dietro poi ogni grande uomo c'è una grande donna noi ci siamo e basta dietro davanti ci siamo e basta penso che gli uomini siano d'accordo con questo no ci siamo e basta e vogliamo e dobbiamo essere visibili concrete e coraggiose in Africa in America Latina i movimenti femminili lavorano e come perché a volte si pensa che in Africa non ci sia una società civile c'è una società civile che tenta di lottare di andare tutto questo ci sono delle donne ci sono dei movimenti femminili certo non è il femminismo eh eh europeo meno male perché ogni ogni paese ogni cultura ha un suo femminismo ma c'è un femminismo ben forte è un femminismo che ci sono donne che lottano e lavorano perché i bimbi i bambini siano eh custoditi perché ci sia sono alla ricerca del pane del lavoro della casa della dignità sanno che non basta stare dietro il politico di turno o il capovillaggio sanno che non è più tempo di delegare e ci mettono davvero la faccia la vita spesso ma non si arrendono dobbiamo fare più rete tra di noi e tra coloro che sostengono le nostre ragioni e questo è davvero un grazie no a tutti quegli uomini che credono in questa eh lotta femminile e ci stanno a fianco e sono i più e sono i più ovviamente se così non fosse oggi non saremo così numerosi e numerose e vado verso la mh chiusura terzo terzo punto donna cultura e religioni certo mi trovo di fronte a fianco di una professoressa di teologia eccetera allora ho un po' come dire sono stata un po' brichina in questa mia terza parte mi scuserà Gabriella e adesso vedrà vedrà ho sentito che adesso 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 arrivo arrivo ho sentito che Papa Francesco non si può più non nominare il Papa una volta a nominare il Papa ti guardavano storto oggi già ti dà una marcia in più se lo nomini allora l'ho nominato anch'io ma pensate che bello invito davvero tutti e tutte a leggere quell'intervista che penso sarà un po' la chiave di volta di questa noi speriamo di questo cambio anche nella chiesa ha detto una frase bellissima ha detto che vuole abbiamo sentito che ha detto che vuole una chiesa povera dei poveri ma adesso lui pian pianino anche se al passo da contadino ma arriva dove vuole arrivare e ci ha detto voglio una chiesa che sia madre e pastora e penso che abbia un risvolto grandissimo soprattutto alla parola pastora e aggiunto che vuole che la donna abbia ruoli decisionali anche dentro la chiesa duemila anni che glielo stiamo aspettando arriverà belle parole belle parole ora però davvero vorremmo i fatti naturalmente perché siamo concrete ma intanto lodevole questa dichiarazione perché ci vuole coraggio ci vuole coraggio a dire cose che sai che avranno un riscontro e una attenzione grandissima il rapporto donna e chiese dico chiese è un po' trasversale in tutte le culture e in tutto il pianeta non c'è religione in primis naturalmente la nostra che non ritenga che non ha ritenuto perché adesso sono nuovi tempi che non ha ritenuto la donna un gradino inferiore io è qui che entra la teologia no? chi ha scritto la Bibbia uomini ha infarcito ogni pagina di questa convinzione e mi sono chiesta se a scrivere la Bibbia fossero state tipo le nostre teologhe d'Italia oppure come le religioni religiose agguerrite degli Stati Uniti vi assicuro che le cose probabilmente sarebbero andate diversamente e io ho provato ci ho provato e non sono teologa a riscrivere un terzo capitolo della creazione ve ne sono due mi sono detta perché non posso scrivere anch'io il mio dove è il mare e allora no e mi sono detta metti che fosse una donna avrebbe scritto il Signore Dio prese la donna e la pose nel giardino dell'Eden perché se ne prendesse cura chi è che può prendersi cura no? il Signore Dio diede questo comando alla donna tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino lascio a te la facoltà di scegliere quello che ritieni necessario utile e buono per la tua salute e per la salute del tuo uomo poi il Signore Dio disse ti chiedo di prenderti cura dell'uomo che ti ho messo accanto allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche tutti gli uccelli del cielo e li condusse a Eva e a Adamo per vedere come li avrebbero chiamati e Dio sorrise perché entrambi si mesero a fare a dare nomi a turno e il nome che sceglievano andava bene a Dio così imposero nomi a tutto il bestiame a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche ma l'uomo iniziò a voler prevalere su Eva allora il Signore Dio che vide la cosa fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò non abbiamo ancora finito gli tolse una delle costole e rinchiuse e rinchiuse la carne al suo posto sperava che con questo trucco di renderlo un po' più mite il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo uno scetro per vedere se con quello strumento si sentisse più a suo agio e da quel momento iniziarono le vere tragedie dell'umanità naturalmente non avrebbero fatto ricadere tutta la colpa su Eva e la sua dannata Mela ovviamente noi vogliamo sperare questo era per non può rendere il clima o meno sapendo anche quello che stiamo vivendo in questo momento noi vogliamo sperare che con questa nuova ventata di liberazione possa portare davvero beneficio alla Chiesa e all'umanità noi per secoli nella Chiesa ma non solo quella cattolica un po' tutte le Chiese siamo stati fatti oggetto di peccato sapete che i migliori santi li avranno fatti probabilmente per quello provate a leggere cosa dicono riguarda la donna non l'ho ripreso perché dico questo sarebbe scadere veramente proprio c'era il concetto della donna come appunto da quella dannata Mela che ci hanno messo addosso la colpa la donna oggetto di peccato le colpe dell'uomo sempre riconducibili alla donna che non sa stare al suo posto che tenta che eccetera per secoli hanno esaltato le donne di maschi e virtù come se noi non avessimo le nostre virtù femminili che sono bellissime e via oggi l'esempio delle religiose degli USA ci fa comprendere che siamo arrivate davvero al capolinea di questo di questo metodo si scende si prende un treno un mezzo si va anche a piedi ma si fa il tragitto che decidiamo insieme fino a quando anche solo una di noi viene offesa tacciamo viene pestata giriamo la faccia da un'altra parte viene uccisa e biasimata e biasimiamo l'uccisa siamo complici dell'imbarbarimento e a vincere è sempre colui che ha come alleata una di noi questo lo ce lo dobbiamo dire ma quando siamo coscienti che dobbiamo riprendere con tenacia il cammino della vera liberazione e fino a che tutte noi siamo compatte siamo decise a riprenderci quanto ci appartiene non chiediamo noi regali e prestiti a nessuno quello che noi vogliamo è il nostro spazio quello che ci compete maschio e femmina li creo quindi spazio please e fino a dobbiamo della vera liberazione fino a che a tutte noi siamo compatte siamo decise a riprenderci quanto ci appartiene dignità coraggio vita solo allora l'umanità ritornerà ad essere umana e noi le artigiane della vita ritroveremo finalmente quella pace necessaria per l'umanità a me è piaciuto tantissimo quando all'inizio prima ancora che aprisse bocca Maria Carmela no c'è stato questo applauso come per dire siamo con te e questo è il metodo che salverà davvero la nostra società ce lo insegnano le donne dell'Africa che chiedono ad ognuna e ognuno di noi di farsi compagne e compagno del loro andare e vorrei chiedo scusa se leggo una poesia che piace tanto che mi piace tanto per dire che dobbiamo proprio ad esempio di queste donne da Africa ad esempio delle nostre sindache di piccoli comuni ad esempio di tutte le donne del mondo camminare metterci in cammino e vai avanzi maestosa più che regina e nei tuoi occhi riflessa sta una forza a te sola conosciuta e vai macinando miglia ingoiando polvere caricando pesi coltivando sogni e vai con passo fermo segnando tappe per capitoli nuovi di un libro antico e continui ad andare instancabile venditrice di speranza non importa se la pioggia in zuppa le tue ossa se il sole brucia l'anima tua se la polvere impasta il sudore tu vai da sempre carica di sogni e speranze nei tuoi occhi gentili riflessa sta una meta a te solo conosciuta e vai incontro alla notte ad attenderti le stelle impazienti di danzare al ritmo dolce del tuo cuore e poi prima che spunti il sole riprendi il cammino anticipando l'aurora generando aurore inventando futuro e l'Africa e il mondo vedendoti avanzare all'orizzonte maestosa più che regina rinnova la fede nel dio della vita riflesso nei tuoi occhi dolci di madre d'Africa e ostinata custode dell'umanità a tutte voi donne a tutte noi grazie 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 grazie